Nel 2019, l'anno dedicato a Leonardo, il Comune di Vinci fu protagonista di una giornata indimenticabile in occasione dei 500 anni dalla morte del genio toscano, con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Adesso il Museo Civico, uno dei più visitati della Toscana, torna ad aprire le sue porte dopo la chiusura per l'emergenza sanitaria al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Vinci è diventata una città di attrazione a livello internazionale che si colora della figura di Leonardo, ma non solo perché, vedete, siamo in Piazza dei Guidi. La famiglia Guidi era quella che nell'Alto Medioevo, dalla Romagna fino a questa parte di Toscana, controllava un territorio. Guido Guerra è citato da Dante nella Divina Commedia con grandi riferimenti. Quindi siamo nei luoghi storici di una Toscana che dal Medioevo passa al Rinascimento e nel Rinascimento fa sbocciare il genio di Leonardo. La città di Leonardo che ha avuto la capacità in questi ultimi anni, anche grazie a un'amministrazione comunale molto illuminata, di rigenerare nei luoghi quello che è la presenza da un punto di vista scientifico, da un punto di vista della geografia, dell'invenzione, della biografia di Leonardo. E conseguentemente, ora dopo la calma piatta del lockdown, appena visto i dati, pensiamo a ripartire. Qui dobbiamo dare la scossa perché quei flussi anche turistici che si erano avvicinati a Vinci durante il centenario di Leonardo possano subito ritornare e illuminare quello che è una delle località, Vinci, dove meglio si riesce a entrare nel clima del genio dell'umanità, Leonardo. Il Museo Leonardo a Vinci è una delle raccolte più ampie e complete dedicate al genio toscano, ingegnere, architetto, scienziato e pittore del Rinascimento. Il percorso museale è articolato su tre sedi poco distanti tra loro, la Palazzina Uzzielli, il Castello dei Conti Guidi e la Villa Il Ferrale, e propone oltre 60 macchine e modelli presentati con precisi riferimenti agli schizzi e alle annotazioni manoscritte dell'artista, affiancati anche da animazioni digitali e applicazioni interattive. Noi vogliamo rilanciare il Museo Leonardo di Vinci che, ricordo a tutti, è il museo civico più frequentato della Toscana e nell'ultimo anno ha sofferto molto, come tutti i sistemi museali in Toscana. Quindi pensavamo proprio di riaprire oggi il Museo Leonardo alla presenza del Presidente della Toscana, proprio per mandare un messaggio importante, la Toscana riparte dalla cultura. Ci saranno anche degli nuovi allestimenti, faremo visitare al Presidente ciò che stiamo organizzando per inaugurare a primavera delle nuove sale, dove avremo dei sistemi multimediali che aiuteranno a far comprendere e capire meglio l'opera del grande genio. Investire in cultura è importante perché io penso che dopo il superamento di questa difficile crisi sanitaria si è trasformata anche in crisi economica, la cultura può essere uno degli elementi che possono far ritornare a crescere il nostro sistema economico e la Toscana in questo è unica.